Carla Bruni per la prima volta sale sul palcoscenico del Teatro Romano di Spoleto. Lo farà in occasione nella prossima edizione del Festival dei Due Mondi in programma dal 28 giugno al 14 luglio. Una prima volta che la emoziona. Perché Spoleto è un luogo che i suoi genitori frequentavano e oggi tocca a lei. Alla Repubblica, Carla Bruni racconta che la musica non è solo il suo mestiere. Dal punto di vista umano è un rifugio, risolve l'ansia. Da compositrice e da melomane, mi fa stare bene. Oggi Carla Bruni ha 56 anni, ha due figli, Aurelien, 22 anni, avuto con il filosofo Rafa Lenthoven e Giulia, 12, nata dal legame con Nicolas Sarkozy. Mio marito è un super 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 maschio alfa, ma è l'uomo più rispettoso che conosca. Non lo avrei sposato se non fosse così. Carla è un ex top model che fa i conti con l'età. Un, un po' mi pesa, risponde alla Repubblica. Mia mamma, che ha 94 anni, dice, se solo avessi 60 anni, una è ancora giovanissima, puoi ballare di notte, far l'amore di mattina. L'intervista a Belve La sua intervista a Belve ha avuto un successo pazzesco. Non vado in tv, ho paura e non mi piace riguardarmi, racconta ancora la collega Silvia Fumarola, un'amica mi disse, dai riguardati da David Letterman. Non so se sia un problema di narcisismo, ma mi faccio schifo, mi giudico, chiara e stupida, come ti sei vestita. Sono separata dalla mia immagine. La sorella Valeria Chiarito tutto con sua sorella Valeria? Io e mia sorella non facciamo niente relegato al pubblico. Come attrice è meravigliosa, come regista ha uno stile unico. La questione è, a chi appartengono le storie? A tutti, anche se il suo talento lo vedo ancora di più, quando racconta cose strane alla famiglia. Il tumore Alla Repubblica dice di avere un rapporto stretto con le donne, l'unica cosa che non faccio con le donne è l'amore. Poi ricorda che quattro anni fa è stata operata per un tumore al seno. Ho avuto paura, terrore direi, quasi un assaggio della propria morte. Abbiamo assaggi terribili della morte altrui, ma la tua è diverso. Poi mi ha aperto l'anima, un mondo sconosciuto, essere nella gratitudine del momento e continuare. Aiuta a pensare che la vita è solo adesso. L'ho capito con questa malattia, che non è finita. Gli esami sono buoni, ma uno non sa. Faccio i controlli. Poi ancora, la malattia insegna che non hai la libertà di scegliere, sei solo libero di scegliere come reagire. Se mi preoccupo di cosa succederà domani, mi viene l'ansia. Ed è inutile. Non lo so, non posso farci niente e non vivo. Conta che succede ora, e ogni giorno è prezioso. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.